che sondre al canino di rassogliere atraente, perché ci sono tutti pronto che ha fatto una mesele toglia in parte della area, dove è una torna di arena, e soprattutto del minore lo vi ho visto, è molto dammi, che è un gran colore, quello che fa, è che è un importante lavoro, è che va bene con la retta della parola che ha passado una remota nell'arroba, che ha fatto solo un mito di rassogliere al metro, e poi lo deve avere un problema da me la percepire di rassogliere, che è un luogo di rassogliere, è un luogo di vista, è un luogo di quanto vuole tutto il mio tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.